È un primo maggio decisamente diverso questo del 2021 ma i sindacati confederali hanno deciso a suo modo di celebrarlo con un presidio attraverso proprio i tre segretari nel luogo del disastro. Siamo in via Vagliani a Levane, un mese fa due incendi a distanza di una settimana hanno distrutto lo stabilimento della Valentino Sciose e danneggiato quello della Lemme. Oggi è la festa del lavoro quindi le due attività seppur con fatica hanno ripreso quindi per noi questo è estremamente importante. A prescindere da come è andata qua io dico c'è un problema molto serio estremamente che lo diciamo da tempo e si chiama criminalità organizzata. Cioè nel senso il territorio diventa guasto non più buono quando è ricco e questa ricchezza viene inquinata da soggetti malavitosi. Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro si ripropone. Il 6 aprile ne abbiamo firmato un altro accordo con il governo, con le parti industriali per poter aggiornare i piani di prevenzione nei luoghi di lavoro, per poterli organizzare anche per aiutare le aziende e soprattutto i lavoratori con i vaccini. Sarà un lavoro duro, sarà molto difficile perché organizzarsi anche per supportare le aziende e dargli una mano in questo momento non è un lavoro sicuramente facile. Questo è un primo maggio di vicinanza per quanto ci riguarda come sindacati a tutti quei soggetti che in questo ultimo anno hanno perso soprattutto il lavoro. Si parla di 23 mila in tutta la Toscana, un'enormità. Lei stamattina è stato critico per la decisione delle regioni di tenere aperti i grandi magazzini e i supermercati in questa giornata. A dei lavoratori che durante tutta la pandemia sono stati sul pezzo senza nessuna via di privilegio per i vaccini che forse era anche dovuta e hanno messo in repentaglio di continuo la loro salute per farci trovare il pane appena sfornato. Forse oggi era un loro maggiore diritto a stenersi da lavorare e fare festa.